Gara 3, è ora o mai più. È il turning point. Christoph Sporzinghi sa un infortunio raro e serio. Queste le parole di Joe, lo stratega Mazzulla. Sigla. Che poi pensavo, basta cambiare l'accento da stratega a stratega, e in Veneto vorrebbe dire tutt'altra cosa. Comunque, buonasera ragazzi e bentornati ad un nuovo video preview dell'NBA Finals 2024. Siamo giunti a gara 3. Prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, seguirmi su tutti i social network, attivate la campanella e non ve ne pentirete. Stanotte, come detto, ci sarà gara 3. Si va in Texas dopo le due vittorie di Boston, in casa, al TD Garden, nel Massachusetts, la provincia di Bibione. Bibione? No, è in Wisconsin. Non è in Massachusetts. Vabbè, bando alle ciance. Per Dallas è, come detto nell'intro, ora o mai più. Nessuno, come sappiamo, è mai rientrato nella storia dell'NBA da sotto 0 a 3. Ma se da un lato abbiamo l'infortunio di Tingu Spingus, dall'altro abbiamo la news che Lucas si sia fatto siringare prima di gara 2 per il problema al costato. Boston ha comunque dimostrato di saperle vincere tutte senza il Ports in questa postseason. Dallas, con Luca a mezzo servizio, non vincerebbe nemmeno mezza partita. Nonostante le news sull'Etone, credo i Cavs stiano comunque peggio se non trovano supporto dagli altri. Kyrie in primis, ovviamente. Senza Ports in this, possono ritornare importanti anche Gafford e Lively in situazioni di pick and roll offensivo. Dallas deve ritrovare se stessa e ha l'ultima chance per riuscire a farlo. Siamo al punto di non ritorno. Do, come nel precedente video prima di gara 2, qualche spunto di riflessione per gara 3. Il video è uscito la sera, c'è poco tempo per vederlo prima della partita, ma lo faccio lo stesso. Per spirito di sacrificio. Allora, primo punto. La presenza fisica, ma totalmente inutile, di Kristaps Porzingis. Si prospetta un cameo come Anunobi in gara 7 contro gli Indiana Pacers per il giocatore che finora è, pound per pound, il più dominante attacco e difesa all'interno di questa serie. Contro una squadra come Dallas, la presenza o assenza di Porzingis fa tutta la differenza del mondo dal punto di vista difensivo, sponda Mavs. Perché senza il mismatch ambulante che è Kristaps Porzingis, Dallas può anche permettersi di cambiare su tutti. Visto che Orford non ha esattamente le capacità offensive dell'unicorno. Il ruolo di Lively e Gafford può tornare ad avere un senso, anche perché i Celtics attaccheranno il claudicante Luca fin dalla palla a 2 come in gara 2. Donchic difensivamente ha un telepass già di norma, figurarsi ora che gioca a siringato ed è visibilmente meno mobile del solito. Se Boston attacca Luca, il duo Gafford e Lively, in assenza Porzingis, mi aspetto possa avere un forte impatto in aiuto ed eventualmente a rimbalzo, anche offensivo. Secondo punto, Kyrie e Tatum. Entrambi sono attesi a partite offensive decisamente migliori. Ma se da un lato Tatum è riuscito ad incidere in creation e a rimbalzo comunque, dall'altro Irving è stato completamente impalpabile a Boston. Sono attesi entrambi a grandi volumi e sicuramente a migliori percentuali, anche perché se Kyrie non si dà una mossa e se Luca sta messo a 4 dei bastoni, non puoi aspettarti che siano Derrick Jones Jr. o Josh Green a darti punti. Un minimo PJ Washington sì, ma in creation dal palleggio non ci sono alternative a Luca e Kyrie. E in questo momento entrambi hanno dei problemi. Per Boston la situazione è diversa e lo abbiamo ampiamente visto per tutta questa run. Run in cui JT ha tirato sempre male, ma con quei compagni puoi anche permettertelo. Terzo punto, ed è il simbolo, lo vedete, il tiro da 3 punti signori. Inutile girarci attorno, se Dallas continua a non segnare da 3, questa serie è finita ancora prima di iniziare. È difficile, perché Boston cambia sempre e non raddoppia mai, costringendo comunque il supporting cast di Luca a prendere tiri più contestati di quelli che di solito sono abituati a prendersi nelle altre serie e nelle altre partite. E questo sembra essere un enorme problema. Vediamo come sta Porzingis e vediamo il minutaggio di Orford. Rimane eventualmente solo Cornett, che sarebbe l'ovvio anello debole difensivo, almeno sul perimetro, a meno che non giochi Xavier Tillman alla bisogna, così rispolverato dalla cantina. Tutto è però inutile se Derrick Jones Jr., PJ Washington, Kyrie Irving, Dante Exum, Maxi Kleber e chiunque è in tripper, Dallas non segna mai dalla lunga. Credo i Celtics giocheranno su queste percentuali pessime, almeno ad inizio partita non sarei stupito di vedere qualche volta blizzare Luca per testare la serata dei compagni, soprattutto se Luca dovesse partire forte. Ultima cosa, prima di chiudere, oggi è scomparso The Logo, Jerry West, per questo il video per la serie Hall of Fame sul vecchio Jerry verrà data maggiore priorità su altri e uscirà alla prima occasione utile, compatibilmente con i miei tempi che sono sempre e comunque molto stringati. Un uomo iconico, Jerry West, sia da giocatore che da dirigente. Riposo in pace, signori. Tornando all'NBA Finals, ditemi la vostra su gara 3, sulle vostre previsioni per gara 3, commenti, TikTok, YouTube, ovunque voi siate, per il resto, signori, la stagione è quasi finita. E quindi, focus sulla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti